Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Io sono Raffaele ed oggi siamo tornati nella art mode di FNAF World Dello scorso episodio ci siamo fermati che abbiamo preso JJ, Fandom Freddy, Wither Freddy oppure ce ci avevamo preso nel primo episodio E questo non mi ricordo Ciao a tutti ragazzi e questo sono Raffaele ed oggi siamo tornati nella art mode di FNAF World Credo sono già pazzo Mo ci pensate voi come ero andato qui Allora se lo sbaglio Ah no me lo so ricordato che culo Che culo Ok Ok Vado a fa un culo Non mi ricordo proprio manco per rin... Cazzo quale era? Qual era l'albero? Sono spoiler... Eccolo! E' questo qui Dove c'è la freccia qui Ok Trovamo benciateci voi a ricordarmi dov'è la seconda, come si chiama, la seconda dimensione Oppure verso la terza dovevo andare nella quinta dimensione Cioè che la sto dicendo Nella prossima dimensione MADO CHE SALVATAGGIO MADO CHE SALVATAGGIO Allo! L'ho trovato! Eccolo! Sì! Allora ora non mi ricordo dove era l'entrata per la terza dimensione Sì! Ma l'ho ricordato Aspettate... No! Non è qui Non è questo Aspettate Non mi ricordo più niente Andare qui sopra Non mi ricordo... Come avevo fatto l'ultima volta Io già lo so che non sarà la quinta... La quinta parte lì Sono girato Io mi rifiuto di girarmi Santo il Gesù Non si credo Aspettate Porca droia Salva 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 la partita salva! Grazie! Siamo riusciti ad avere anche la terza gioia quinta Che in tre episodi O sono quattro Che episodi siamo? Non lo so Siamo girati Il bello è che abbiamo preso un cazzo di personaggi O niente E questo è brutto dell'hard mod Che i personaggi vengono a caso Grazie 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 Poi dobbiamo usare un checkpoint Che ora non mi ricordo com'era Come andiamo a battere il post Eccolo Rain day Pizza wheel Bite Tramsker Rai Rain day Orrodo ma è questa parte che non mi ricordo Non è questa Allora è quest'altro No Allora è questo Ora quale cazzo è? Allora per faccio questo è questo ma che cazzo è uno scherzo ma quello ragazzo questa cazzo sta succedendo hai preso la cazzo ma uno di queste tombe fa tipo il bug per andare non è che corre un albero e allora che cazzo succede cosa sta succedendo perché come si andava qui qui come si andava 5 ma che cazzo era com'era non mi ricordo più aspetta muovi c'è il boss allora bonnie no no allora bonnie lo scambio foc si lo scambio scambio foxy per foxy allora io voglio cercare questo è bisogno di avere fandom si cazzo freddy purple freddy nightmare freddy down si se non durò a spiegare questa qui è quella che mi vendeva quegli occhi che mi facevano che mi faceva abbassare i livelli però devo farmi una strada enorme per arrivare da loro sono già arrivato sono già arrivato sono già arrivato ok dun ok ecco mi sono scordato questo puttana troia grazie misteri cazzo ci ho fanno posso non aver dovuto dirlo nel pensiero in dentro che l'ho detto perché mi scende po' cazzo che cazzo di problemi hai pizza cazzo so che cazzo troppo troffa ancora guarda mancava poco mancava poco vorrei poter messare la tastiera allora io so che tu sei una brutta persona e mi prendi per il culo però no pesante idiota io ci voglio riuscire voglio prendere quella cazzo di sper qui che se la prendo dovrebbe tipo succedere che ci verrà che ci verrà in alto sono spaventato in art mod e la tattica è stare sempre da questa parte perché se sto da questa parte la riesco a prendere non ci credo perché non posso andare qua perché non ho la chiave ragazzi destra o sinistra vabbè andiamo di qua almeno devo pisciare vicino post ok sarebbe endless mode tipo vabbè eccola debareva mi sono ricordato cosa dovevo fare ok aspetta dove ecco ok devo andare su ma non me lo sono ricordato grazie a dio su ora ecco il coso qui ovviamente c'è un guardiano il coso qui mamma che culo in un momento sto pensando aspetta non c'è tipo non c'è un'altra dimensione in quella caverna la tomba mi è venuto subito a mente ok allora le parti in cui andare me le me le ricordo perché non mi perché non mi fa andare sopra che c'è qui perché perché fai andare qui sì terza di metodo lo so se è quella ma mi sa che non è così ok allora non mi ricordo quale era dove dove stava stava qui sopra eccolo adesso sono qua dovevo vedere fredbear eccolo guarda ragazzi in un episodio sono arrivato a tre zone adesso devo trovare soltanto la chiave che però ragazzi mi sa che allora in questo episodio troveremo la chiave nel prossimo episodio cercheremo di aprire i lucchetti apre il posto di sopra allora no la chiave la cercheremo nel prossimo episodio ragazzi ho avuto questo episodio nel prossimo episodio cercheremo di prendere la chiave shadow freddy puppet hultin freddy e e come si chiama phantom magle e cercheremo di aprire qualcuno dei nightmare dove ci vediamo nel prossimo io ciao 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 ciao